Presa la notizia delle dimissioni del Duce, parte per un destino incerto, quasi alla cieca, con destinazione arborea, c'è chi balla fino allo sfinimento, chi mangia quattro palmenti, Beppe, e chi, come Zvanon, beve direttamente da una gomma, inserita nel tino maggiore. Don Cimbolano e Fafin, rispettivamente nei ruoli di campanaro e calciatore, da in cima al campanile intonano un concerto, suonando la Carlona e Federica col sistema bolognese.